Insomma alla fine l'ho fatto, ho fatto decluttering alla libreria, quindi c'era qualche titolo ultimamente che guardavo in libreria e non volevo più tenere, quindi ho colto l'occasione per dare una sommaria sistemata a quel che è gli scaffali della libreria e di conseguenza ne sta uscendo un video, quindi vi mostro i libri che prenderanno il volo dalla mia libreria, libri che mi hanno tenuto compagnia in questi anni ma che non sento più l'esigenza di leggere oppure comprati sulla scia del mio acquisto compulsivo ma che poi mi sono un po' pentita. Ci saranno anche libri che sono indecisa se tenere o no, quindi non so, ci penserò con voi e anche una serie di libri che scoprendo una cosa all'interno ho deciso di tenerli perché quello che c'era scritto mi ha colpita. Chi mi segue su Instagram già lo sa perché avevo fatto un post in merito, se non mi seguite sono pagine di zucchero col trattino basso e quindi andatemi a seguire anche là, sono sicuramente più attiva che su YouTube. Purtroppo qui trovare tempo per registrare mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora perché tendenzialmente, parliamoci chiaro, i miei sono video lunghi, insomma che quindi uno si deve mettere un pochino ferma a guardarli o mentre comunque fate delle cose prolungate nel tempo e quindi non sempre io per prima trovo il tempo per registrarli, quindi oggi sono tornata dal lavoro, mi sono messa di sotto e ho registrato, infatti ho l'aria sconvolta da una che è uscita da poco dal lavoro ma questo non importa perché i protagonisti veri sono i libri, io faccio solo da contorno, un bel contorno, oserei dire. Allora, mi eravate mancati, mi siete mancati molto. Allora, il primo che do via è un libro che ho provato a leggere a dicembre, l'ho iniziato con tanti buoni sentimenti, tra l'altro fa parte dello scaffale strabordante quindi lo do via e ci metterò dentro un altro, di Carola Barbero, Sex and the City e la filosofia, quindi analizzare gli episodi di Sex and the City in maniera filosofica e trovarci degli spunti filosofici, però non ha niente da dire rispetto a quello che io già sapevo, ho letto in altri testi simili perché comunque sono appassionata della serie Sex and the City, anche se mi manca per recuperare l'ultima, però è una serie che ho sempre amato amo tutte le protagonisti, quindi è una serie a cui sono affezionata, per cui quando vedo questi titoli cerco di recuperarli sempre ma questo nel dettaglio mi ha annoiato, non mi ha dato spunti nuovi di riflessione perché comunque sì, si parla di Mr. Big, fare l'amore come uomini, quindi essere un po' più liberi nel gestire la parte fisica di una donna ma, 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 poi tendenzialmente si torna sempre a cercare il matrimonio perché? A chi se ne frega, voglio dire, non mi interessa saperlo volevo altro, qui in queste prime 20 pagine almeno, in queste prime 20 pagine si parte dall'analizzare la sigla fino poi a partire con tutti gli episodi no, non mi è piaciuto come ha affrontato, l'ho trovato un po' pesante e un po' anche un po' banalotto, sono sincera poi, un James Patterson, di lui ho letto già diversi titoli perché è un autore che ho già imparato a conoscere ho letto, diciamo, quello che volevo leggere di principale e l'ho letto questo me l'avranno regalato perché è stato salvato da un secchio dell'immondizia un secchio della carta, quindi l'ho preso a casa con me l'ho iniziato, sono a pagina 40 allora, James Patterson, come definisce il mio amico Marco di New York è un titolo da aeroporto quindi quei titoli molto leggeri che di puro intrattenimento che però alla fine a me non me lasciano niente perché io se vi dovessi dire che cosa parlano i libri colletti di James Patterson io non mi ricordo questo nel dettaglio è il collezionista sono arrivata a pagina 40, c'è capitoli brevi quindi si legge velocemente ma non ho interesse ad andare avanti nella lettura l'amore è una parola senza L davanti amore è una parola di Claire Kalman dunque, l'avevo preso sulla scia non lo so, l'avevo preso al mercatino 1,20 euro se questo poi è il prezzo giusto e non lo so, mi ispirava all'epoca la trama ma io non la ricordo più la leggeremo insieme Laura, 33 anni è una convinzione basta con quella parola che incomincia per A per quella semplice parola di 5 lettere ha già sofferto troppo e non è disposta a sentirla così quando lascia Londra per cambiare città il lavoro comincia la sua nuova vita con quest'unico ma fermissimo proposito vabbè, bla 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 ricomincia niente potrà dissuaderla un personaggio femminile indimenticabile di grande forza e di grande fragilità vabbè, non mi interessa più leggerlo e quindi non so come si vede meglio così e quindi lo do via poi questo l'avevo preso al book crossing della pastizzeria dove lavoro ma già da quando l'avevo preso ero un po' indecisa è passato già troppo tempo non mi va più però l'avevo preso per biblioteca i segreti della biblioteca sulla quinta strada di Fiona Davis si parla del periodo delle suffragette ambientato nel 1913 e con un escursus nel 1993 quindi con salti temporali ma scritto grande anche quindi magari di facile anche lettura però no non mi interessa più leggerlo quindi next possiamo andare avanti a malincuore perché un po' mi dispiace ma oggettivamente a parte leggere le fiabbe principali che mi interessavano che erano quelle di ispirazione della Disney quindi le vere fiabbe ispirate ai fratelli Grimm della Disney altro non ho letto sta qui da qualche anno che sta a prende polvere quindi diamolo via e facciamo spazio anche perché uno di questi sono due fantastici libri da 300 pagine diamo via diamo spazio ad altri libri un po' mi dispiace questo è correlato di foto è una bella edizione tra l'altro però oggettivamente ma che ci faccio ho letto le principali che era Rapunzel la bella addormentata nel bosco come dico qualche castroneria comunque me le ero segnate quelle che volevo leggere le ho affrontate ciao tra l'altro edizione da mercatino quindi non è che parliamo di grande perdita insomma ecco ok adesso un altro titolo che è passato un po' di tempo un po' non mi va più di leggere sull'argomento Maria Marisa Maria Maria vuoi chiudere la pusta sono arrivata Marisa Raniari Panetta Vesuvius spinto l'ho preso spinta sulla scia che ho letto Pompei di Harris sì bella la ricostruzione storica del libro di Harris però c'è la storia d'amore no quello non mi era piaciuto io volevo arrivare al pezzo clou diciamo del romanzo però a riaffrontare tutta un'ipotetica storia d'amore un passato incancellabile torna dalle ceneri della città distrutta no non mi va di affrontare un intero romanzo anche se qualcuno di voi mi ha detto a suo tempo quando lo mostrai che era un bel romanzo però io non ne sento più il bisogno di leggerlo poi di Filippa Gregory è una vita che sta questo libro ancora non l'ho letto anche questo mi avete detto che è un bel libro L'amante della regina vergine ora io questi titoli mi li scriverò tutti perché dal momento che mi viene lo scrupolo di andarlo a leggere lo recupero insomma in qualche modo lo recupero al mercatino usato però adesso ho bisogno di far posto al libri che vorrei leggere nell'immediato e ho tempo di leggere anche quindi figura di quanto può essere il mio immediato comunque questo lo voglio dare via mi è passata la fantasia di leggere questa tipologia o altri insomma un po' sempre storici romanzi storici perché comunque mi piacciono molti romanzi storici però questo nel dettaglio non ho più intenzione di leggerlo poi avevo trovato di questa collana qui vecchissima i grandi processi della storia avevo preso quello di Oscar Wilde e quello di Galileo Galilei Galileo Galilei lo diamo via Oscar Wilde però me lo sono tenuto perché comunque è un autore che mi piace molto avevo già letto qualcosa di suo diversi romanzi anche dei profondi se avevo letto e quindi ero curiosa di sapere questo processo Oscar Wilde però Galileo Galilei lo do via perché sì ero interessata perché all'epoca non so che avevo letto qualcosa su Galileo Galilei ero molto interessata nell'argomento però poi mi è passato il momento e quindi lo do via poi che non mi cade tutto a me sicuro poi dunque un libro di Dick allora a me Philip Dick non piace molto ho provato a leggere qualcosa ho ascoltato l'audiolibro di le pecore elettriche sognano una cosa del genere vedete Blade Runner ma non sì l'avevo ascoltato ma niente di che ho provato a leggere qualche suo romanzo ma non mi piace il tipo di scrittura avevo lasciato i labirinti della memoria da cui è stato tratto Pai Check che credo essere un film con non lo so con Ben Affleck questo potrebbe essere Ben Affleck non lo so comunque c'è stato tratto un libro dal regista di Mission Impossible e Face Off quindi di conseguenza l'avevo lasciato perché a me piacciono i romanzi da cui poi sono tratti i film ma io Philip Dick non ce la faccio a leggerlo quindi ancora sta qui sto libro quindi diamolo via tutta questa premessa per dire che questo lascerà la mia libreria mi dispiace sapete che faccio prendo tutti i segnalibri che trovo nei libri e mi li riprendo perché poi magari ci metto ecco vedi questa era arrivata pure a pagina 28 ma purtroppo non aveva sortito l'effetto sperato non ce la faccio non ce la faccio proprio a legge Philip Dick per me è uno scoglio abbastanza insormontabile oserei dire una Yende nonostante oddio nonostante tra i preferiti del 2023 io abbia inserito il gioco di Ripper della Yende questo romanzo non mi interessa leggerlo poi magari è bellissimo però in questo momento che ve lo faccio vedere non mi interessa averlo nella libreria Pola ce l'ho altri di Isabella Yende che voglio affrontare ma questo nel dettaglio no anche questo l'ho salvato da un secchio della carta perché lo buttavano e quindi l'ho salvato però preferisco dargli vita dargli nuova vita in altra maniera a lettori che magari apprezzano di più l'argomento so che questo l'ha scritto la Yende verso la figlia che stava male in quel periodo mi pare ricoverata in ospedale spero di non dire sia male di una malattia gravissima a 28 anni la figlia quindi scrive questo libro per la figlia no non ce la faccio a leggerlo mi rattressa troppo non ci riesco non so manco com'è andata spero che stia bene la figlia non lo voglio sapere voglio vivere nell'incoscienza non voglio libri che mi rattressino perché non ce la faccio altro libro che ho finito di leggere più o meno finito sotto Natale è Falli Soffrire un saggio su come trattare gli uomini o farsi rispettare dagli uomini ora ero abbastanza incuriosita perché sono anni che lo vedo al mercatino dell'usato quindi l'ho trovata ad un euro lo compro e lo leggo ho letto i passi principali perché ci sono delle lezioni quindi 70 71 insomma 2 3 tutte le lezioni tipo 41esima legge del fascino gli uomini rispettano le donne che comunicano in modo sintetico perché è il modo in cui gli uomini comunicano tra loro allora non sono tanto per questi manuali per questi saggi su come comportarsi e vedere come la pensa quello come la pensa quell'altro quindi farsi rispettare nel senso io sono fatta così se ti va bene è bene se no quella è la porta ciao ma in generale anche nei rapporti d'amicizia sono un po' così per cui tante tecniche tante tattiche per piacere non mi piacciono quindi mi sottolta la curiosità non mi ha detto niente di nuovo rispetto a quello che sapevo anche questo e quindi ciao è stato un piacere vabbè Sofia ha dato via Romolo e Remo le origini di Roma un libricino per dai sette anni in su scritto così l'avevamo preso a Roma a Roma a Roma o all'ex libris di Rimini non sono la più paliera dove l'abbiamo preso però l'ha dato via e poi di Carlo Lucarelli l'isola dell'angelo caduto questo l'avevo preso per avere il 3x2 in una bancarella non sapevo che prendo ho preso questo ma io in realtà non ho voglia di leggerlo mi dispiace non so neanche se mi perdo può darsi pure che tra questi mi ditan già sei pazza da via questo senza averlo letto quindi magari scrivetemelo nei commenti che cosa ne pensate se anche voi dareste via un titolo del genere che non rientra nelle vostre corde sapete mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti questo però dice questo è un libro da cui non ci si stacca se non dopo aver voltato l'ultima pagina però a me oggettivamente non mi ispira l'ho preso perché devo fare il 3x2 però 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 lo do via perché al momento non mi interessa di leggerlo poi un po' ci sono anche i pregiudizi letterari un pochino ammetto che ne soffro un po' da copertina un po' da tante cose un pochino di pregiudizio letterare di Joshua Abraham Joshua il responsabile delle risorse umane anche questo volevo leggere qualcosa di quest'autore però anche questo libro è qui da tanti anni e ancora non l'ho affrontato e devo dire che rileggendo la trama non mi ricordo neanche che cosa ci ho trovato di interessante all'epoca un terrorista suicida si fa esplodere in un mercato di Gerusalemme una donna muore era straniera viveva da sola in una squallida baracca di un quartiere di religiosi nessuno va a reclamare il suo cadavere all'obbitorio del monte Scopus eppure Giulia aveva ancora formalmente un lavoro come ha detto di pulizia al grande panificio della città una giornalista senza scopere sfruttare il caso per imbastire uno scandalo beh non lo so forse questo mi aveva ispirato il fatto che muore questa in Cessagnana e quindi c'è dietro uno scandalo e poi qualcuno va ad indacare però non mi interessa più l'argomento magari di questo autore cercherò un altro titolo con una trama che magari mi sembra un pochino più accattivante e più nelle mie corde e quindi ho deciso di darlo via qualcuno di questi titoli finirà anche su Vinted e magari ecco se mi seguite su Instagram farò un post per avvertirvi che l'ho caricato su Vinted allora un altro titolo che sta questo l'ho preso con Bookmuch quindi all'epoca scambiavo con Bookmuch parliamo già di quasi 7-8 anni fa quindi è vecchissimo è un fantasy e voi sapete che proprio non rientrano nelle mie corde i fantasy infatti l'altro titolo su cui sono decisa è Eragon però ho deciso di tenerlo perché me ne hanno parlato bene quindi dai voglio provare almeno a leggere il primo di Eragon ma ancora sta lì che mi guarda questo nel dettaglio di Trudy Canavan la corporazione dei maghi appassionati di fantasy lo ricorderanno perché quando è uscito mi pare il primo di una trilogia era andata parecchio insomma era ne avevo sentito già parlare da diversi altri ragazzi che facevano i video qui su youtube però io ancora ancora sta qua quindi è arrivato il tempo tanto io di fantasy è inutile che faccia così ce ne ho qualcuno ma è come tipo l'ultima spiaggia proprio non è quella cosa che mi vado a cercare quando voglio leggere qualche cosa e non so che cosa quindi questo lo do via e gli diamo nuova vita andrà a qualche lettore che lo sa apprezzare più di me nonostante sia sulla breccia da parecchio insomma ecco poi un titolo che ho preso sulla scia di Anne Tyler ma non ho detto che era simile anche questo mi pare che l'ho presa al book crossing della pasticceria mi possono venire le parole da quando mi lasciasti di Maria Venturi ora come obiettivo ho mio personale così a tempo perso di leggere almeno un libro di ogni autore nella vita così c'ho cazzo da fare c'ho sto obiettivo perché mi dà l'ità di avere più formazione di parlare con cognizione di causa nel senso che ne so Sveva Casati Modignani adesso per dire perché ho qui Charlotte Link e di solito le associo Sveva Casati Modignani sì ho letto un paio di libri suoi però non mi piace come scrive ora se io non l'avevo letto non potevo sapere come scrive Sveva Casati Modignani in un ipotetico discorso poter dire la mia ok ho trovato il suo stile di scrittura molto freddo rispetto a quello che piace a me per cui è questo che vorrei vorrei avere un'infarenatura sono tantissimi gli scrittori quindi è una cosa impossibile però avere un'infarenatura il più possibile su tanti autori in modo da poter comunque dire la mia in un ipotetico discorso d'accordo non d'accordo però questo diciamo è un po' come la interpreto io la lettura sì anche leggere titoli così di intrattenimento però anche diciamo avere una generale formazione allora questo l'avevo preso perché di Antailer avevo letto un giorno per caso una cosa del genere che io volevo lanciare ero in treno quando lo stavo leggendo e tornavo da una ero stata alla fiera del libro usato a Milano dove mi ero incontrata con la Vale ho conosciuto Alice anche la Julie mi pare la Lia quindi insomma mi ero conosciuta con tanti insomma di questi pazzi scatenati che ancora fanno video su Youtube e questo libro mi ricordo che lo volevo lanciare dal treno perché vabbè è una cosa oscena non mi è piaciuto minimamente quindi sulla sci avevo preso questo perché era simile voglio farmi un'idea è ancora qui quindi penso che lo ridarò via perché non intendo dedicargli un minuto di più mi dispiace Maria Venturi next avanti allora di Andrea Camilleri la lingua batte dove il Dante è duole di Tullio De Mauro una sorta di saggio comunque di scritto sulla lingua italiana però non sono io lo so che adesso vi metterete le mani nei capelli non sono un'estimatrice di Camilleri non mi piace la sua penna per quanto ho ascoltato un filo di fumo mi pare letto da Fiorello e dallo stesso Camilleri e quello mi è piaciuto tantissimo con tutte le musiche insomma si era creato un bell'ambiente ah nel dettaglio io ho provato diverse volte a leggere i libri di Camilleri non mi piace la sua scrittura eh lo so però c'è da dire che io ci ho provato chi è messo se stai scaricata no ok poi Daniel Pennac anche qui ho provato varie volte a leggerlo ho provato due tre volte a leggere il paradiso degli orchide la serie di Molossien 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 vabbè comunque del capro espiatorio ma non ci sono riuscita non mi piace proprio l'unico che ho apprezzato è la passione secondo Therese di questa serie che mi sono ammazzata dalle risate quindi quello mi è piaciuto ma il resto no ho letto pure qualcosa scritto per ragazzi tipo abbagliare stanca però non mi ha fatto impazzire questo me l'hanno dato il regalo quando sono andata alla Feltrinelli a il centro commerciale Maximo a Roma Sud credo e a Diario di Scuola di Daniel Pennac di lui ho anche letto i diritti del lettore ma sapete che c'è che io non ce la faccio a leggere Pennac quindi l'ho tenuto un po' dico magari mi viene voglia di leggerlo non mi va e quindi lo do via è inutile che tengo tutti questi libri e poi oggettivamente mi fanno solo polvere in libreria meglio dare spazio a nuovi titoli scusa per comprare e ripristinare un po' i buchi che non ci sono nella mia libreria anche questo un saggio di Flexner l'utilità dell'inutile manifesto di Nuccio Ordine non lo so eh vi leggo quello che c'è scritto perché non lo so all'epoca ne avevo sentito parlare quindi l'avevo trovato al mercatino e l'avevo comperato però oggettivamente io non mi ricordo più di che cosa parla l'avevo preso non c'è più manco il prezzo quindi l'avevo presa una cosa inutile però io i saggi ho delle difficoltà a leggerli non è che mi fanno impazzire quindi questo lo darò via ora un titolo che ho provato tantissime volte a leggerlo credo sia degli anni 90 simbolo degli anni 90 credo ma spero di non dire una grossa castroneria e noi ragazzi dello zoo di Berlino io sono ferma pagina 65 da quel di e sta ancora qui non mi piace non riesco a leggerlo per quanto sia crudo interessante da leggerle insomma ne ho sentito ne ho sentito tanto parlare però io non ce la faccio mi ricordo anche quando una scrittrice proprio chissenef fece un ipotetico seguito raccontando insomma tutto quanto però io non ce la faccio a legger non rientra proprio nelle mie corde questo libro e quindi alla fine ho deciso di darlo via poi domani mi verrà voglia di rileggere o lo recupererò in qualche altra maniera ma in questo momento non è tra le priorità che voglio affrontare di lui se pulveda la trilogia dell'amicizia ora che qui se pulveda è un grosso scoglio perché a me non piace la sua scrittura ho letto la storia di una gabbianella e del gatto ho letto qualcos'altro ho letto suo diario di un killer mi pare e basta credo comunque io l'ho già affrontato anche iscritti un pochino più diciamo da adulto diciamo però non rientra nelle mie corde non mi dice niente non mi trasmette niente e quando l'ho finito diario di un killer io l'ho completamente dimenticato quindi niente volevo farlo leggere a Sofia ma neanche l'ha interessata la storia della gabbianella quindi niente questo l'ho addirittura l'ho dato via l'ho ricomprato perché volevo leggerlo e adesso lo ridò via il principe dei ladri di Chuck Hogan ne ho sentito parlare bene sa che c'è tratto un film ma non lo so non mi ispira parla di ladri il principe dei ladri ma mi antesfugge niente però non lo so mi mi ha sempre ispirato ma sta ancora qua e tra quelle letture magari che vorrei fare questo non rientra mai siccome è già qualche anno che sta qui con me lo mandiamo via diamo nuova vita a questi libri questo è l'obiettivo di questo decluttering poi di George Holwell allora George Holwell mi piace molto la fattoria degli animali è uno tra i miei classici preferiti il 1984 era un grosso scoglio perché l'ho abbandonato a 18 anni e io non l'ho più aperto sta ancora qui questa copia tutta ingiallita piena di macchie non mi interessa è la mia copia quindi rimane con me prima o poi la leggerò ma è un po' la mia onta da lettrice perché io non l'ho capito quel libro mi sono fermata non so se era arrivata a metà non ci ho capito niente l'ho abbandonato lo dovrò riprendere detto questo ho già letto ho anche memoria di un libraio suo scritto da lui ma l'ho trovato estremamente noioso e pesante nonostante fossero gli articoli che aveva scritto inerenti al suo passato da venditore di libri usati in una libreria dell'usato quindi avevo nel ventre della balena ed altri saggi quindi decido di darlo via e magari c'è qualcun altro che lo apprezza più di me io George Holwell non riesco mi dispiace perché mi ispira molto avendo letto la fattoria degli animali la fattoria degli animali averlo apprezzato tantissimo perché lo rileggo l'ho letto da piccola media età e anche recentemente mi pare non so se un paio di estati fa abbiamo ascoltato l'audiolibro con Sofia quindi io comunque è un libro che mi piace tanto riapprocciarmi e vedere anche io tutte le sfumature che ci vedo crescendo diciamo con l'età però il resto non riesco a leggerlo speriamo bene in 1984 ho buone aspettative John Grisham mi piace molto nei legal thriller quando ho letto la giuria da cui poi vabbè c'è tratto il film famoso che io stra adoro quindi ho deciso di recuperare qualcos'altro ho di lui in attesa i confratelli però non mi è piaciuto ad esempio fuga dal Natale avevo letto il testamento di John Grisham non mi era piaciuto anche vero che avevo 15 anni quindi forse il legal thriller non lo apprezzavo appieno all'epoca però la prima indagine di Theodore Bourne lo do via è un romanzo per ragazzi questa è una collana che usciva col giornale me l'aveva fatta Andrea per giovani lettori avevo letto qualcosa questo era rimasto però ho deciso di darlo via preferisco degli scritti un pochino più sostanziosi per quel che riguarda John Grisham poi questo è un doppione perché mi sono accorta di averlo una volta che sono tornata a casa il grimorio di Beck Street di questa casa di Sugar Goil che ormai è chiusa insomma non ci sono non produce più però mi piace mi piace da morire i titoli che ha sempre proposto e perché ha le pagine bianche che più bianche non si può con una nota marca di una nota pubblicità di saponi però però questo ce l'ho doppio e quindi di conseguenza lo do via poi di Federica Marchetti questo l'ho comprato in mercatino dell'usato ma mi è arrivata la stessa copia in regalo questo Natale e quindi ho deciso di dare via la mia copia giustamente quella comprata in un mercatino dell'usato quindi c'è un cadavere in libreria ambientato a Viterbo quindi nella mia città si parla di gialli ho già letto il primo racconto perché ero indecisa su cosa iniziare tra due romanzi a dicembre poi ne ho letto nell'uno e nell'altro comunque il primo racconto l'ho letto molto carino protagoniste frizzanti si ispirano un po' lei si chiama Agatha Christie italianizzato proprio e sono due amiche una più introversa una più espansiva però che cercano di risolvere a modo loro nel dettaglio di questo racconto un omicidio avvenuto proprio nella loro libreria e quindi come primo approccio a questa scrittrice che poi è della mia città mi piace molto mi è piaciuto molto poi l'isola delle cameriere almeno di quelli che ho letto ve lo dico con due parole quest'altro vabbè all'arrembaggio l'isola delle cameriere l'avevo preso perché edizioni difficilissime da trovare al mercatino un pochino mi ispirava per 2,90 euro mi ispirava la trama che io non ricordo più ragazzina Irma ha dovuto sacrificare la passione per la danza all'altare del suo metro e 80 di altezza ora ha 28 anni e porta il 43 di scarpe ed è stata lasciata dal suo unico grande amore ha abbandonato l'università e fa la cameriera odia i borghesi gli ipocriti in particolare la dottoressa Schwartz da cui fa le pulizie due volte a settimana la dottoressa non ha rughe né difetti come uscita dalla televisione e funziona con il telecomando è perfetta ma Irma scopre il suo scarletro nell'armadio ha segregato la sua ceranelli in cantina no oddio questo potrete ne però adesso incatenata in condizioni bestiali oddio questo mo che faccio mo lo do via Irma libera Nelli e architetta il piano per una feroce vendetta che dovrà distruggere tutto ciò a cui tiene la dottoressa Schwartz la reputazione la carriera politica e figli ma no ma già mi dice che libera la suocera ma come farà non ci interessa no lo do via già mi dici che liberi la suocera e prepari la vendetta per i figli no non mi interessa leggerlo ero lì ero lì per tenerlo ma poi sono rinsavita allora un romanzo anche questo che è qui da me da quasi una decina d'anni questo so che Elisa ce l'hai anche te però basta lo voglio da via perché tanto non lo leggo sta qui la chiave del tempo di Hanfort Hanfortier scusate romanzo storico ambientato a Siena nel 1340 e a Siena oggi che dovrebbe essere più o meno gli anni 2000 all'incirca l'avevo preso perché costava 3 ore e 99 nuovo in un supermercato quindi mi ispirava all'epoca la trama inutile dirvi che è passato il suo momento è stato un po' con me però riguardandolo adesso in libreria non mi va di affrontarlo e quindi lo do via mi dispiace potrebbe poteva anche piacermi però non mi va più di leggerlo mi dispiace se ce l'hai anche tu ma io lo do via ok Mitch Albon lui è un autore che ho letto di suo le 5 persone che incontri in cielo un libro bellissimo di quest'uomo che che praticamente si apre la scena che c'è un parco giochi con le giostre e a un certo punto si sgancia una giostra su cui c'è una bambina sta precipitando quest'uomo si lancia a salvare questa bambina stacco diciamo dell'ipotetica immagine si riapre con lui in cielo tu non sai se è in coma o è morto e lui fa questo viaggio incontrando 5 persone che ha incontrato nella vita di tutti i giorni persone che anche che la sfiorate nel senso incontra un ragazzo che gli aveva detto lui ha detto io non ti conosco si ci siamo conosciuti perché una volta ti andò il pallone in mezzo alla strada tu per andarla a prendere non guardasti ti lanciasti io per frenare ho fatto un incidente e sono morto però in quel modo ci siamo comunque incontrati non deve esserci stato per forza uno scambio di parole un qualcosa ma solo sfiorarsi così ha fatto sì che noi ci incontrassimo e quindi in un certo senso risolvere quello che era rimasto un po' non detto inutile dire che lui incontrerà anche la moglie è stato un pezzo molto toccante però da lì un po' ho cercato di recuperare quello che aveva scritto Mitch Albon c'ho uno che sta lì che non riesco a vedere da qui però è un'ultima una entrata che ho già fatto vedere però penso che sia un ipotetico seguito delle cinque persone che incontri in cielo che tra l'altro ho visto che è uscito ma non mi ricordo se è nel dettaglio quello e i miei martedì col professore un uomo terminale che rilascia un'intervista sulla sua vita e non so avranno da parlare di questo vivere insomma gli ultimi istanti molto interessante un tema che mi piace molto affrontare però di che cosa stiamo parlando? di quest'autore Mitch Albon ma un giorno ancora praticamente si parla del rapporto madre figlio o comunque padre figlio figlio genitori di quest'uomo che gli funziona una radio e si mette in contatto con il lui del passato però è noioso io non ce la faccio a leggerlo questo sofferma da anni ormai a pagina 59 e io non ho più intenzione di leggerlo mi dispiace è un autore che mi ha colpito tanto con le 5 persone che incontri in cielo ma questo proprio no il piccolo Charlie Benetto adora suo padre e vive nella sua ombra fino al giorno in cui lui all'improvviso abbandona la famiglia e scompare a 11 anni Charlie è costretto ad una brusca inversione di rotta deve imparare a rivolgersi alla madre una donna dolce e coraggiosa che senza perdersi d'animo riuscirà a crescerlo da sola nonostante la rabbia di Charlie il suo rimpianto per una famiglia normale sì la madre muore quindi lui più o meno cerca un po' di riprendere questo rapporto un po' di elaborare questo rapporto difficile con il padre questa scamparsa improvvisa con la madre insomma vabbè una sorta di elaborazione alla fine ma che non mi ha convinto mai fino in fondo quindi proviamo a leggere altri scritti suoi ora di Stephen Zweig Notte Fantastica l'avevo preso perché parlava di racconti a sfondo erotico comunque c'era un qualcosa di passionale erotico erotismo l'avevo iniziata a leggere ma non mi è piaciuto di lui ho letto già un paio un paio di racconti brevi insomma quei libricini piccoli che era tipo La Notte Fantastica no questa è La Notte Fantastica la novella degli scacchi e Mendel Mendel dei libri credo che avevo letto e li avevo apprezzati tantissimo quindi io ho spinta l'ho trovata al mercatino l'ho preso ma non mi ha sedotto nella stessa maniera do via un romanzo scritto sotto pseudonimo un giallo scritto da Livistong che è scritto praticamente da quello che ha scritto Ramses non mi ricordo la serie dei libri su Ramses e in realtà sotto pseudonimo ha scritto l'orologiaio di Buckingham ho letto già un romanzo di questa serie e non mi era dispiaciuto quindi l'avevo lasciato per per leggerlo però 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 no lo do via perché non mi interessa uno l'ho letto basta l'infarinatura c'è l'osso che l'ha scritto sotto pseudonimo totalmente tanto bene che manco mi ricordo Jacques qualcosa non mi ricordo a memoria così non mi ricordo qui dietro non lo dice naturalmente e quindi questo lo do via è inutile che li tengo ma che ci faccio ah un altro dick ecco c'era qualcosa che infatti mi ricordavo questa di copertina next con Nicolas Cage mamma mia ragazzi e poi labirinti da memoria mi devo tenere perché non mi ricordo niente comunque anche questo l'avevo tenuto perché c'era next il film che ho visto mi era piaciuto volevo leggere la trasposizione libresca no Philip Dick non mi piace l'ho visto in libreria dico basta tanto fino adesso non l'ho letto è inutile diamolo via perfetto mi piace quando sono così l'idea è poca e confusa ora un'altra prova che avevo preso Barbara Baraldi ne avevo sentito parlare molto bene come thrillerista diciamo così e avevo un mercatino l'ho trovato per 3 euro fantastico mattone la stagione dei ragni non mi va di leggerlo sta qui in casa mia già da un paio d'anni almeno sicuramente 2021 ecco già anche quasi 3 anni quindi lo do via quando mi va di leggerlo comprerò magari un'altra trama perché ho riletto la trama prima di mostrarvelo in video non mi ha scaturito nulla e quindi ciao next come quello di Philip Dick ora tre libricini piccoli di Roberto Calasso l'impronta dell'editore tutti i saggi che ogni tanto compro ma poi oggettivamente io non leggo aero areopagitica discorso per la libertà di stampa di John Milton non mi interessa più leggerlo e i libri proibiti di Mario infelise infelise l'avevo presto per i libri proibiti però non mi interessa più leggerlo e quindi li do via poi facciamo un po' di pila qui in modo che ecco qua allora Dark Alchemy l'avevo messo nella sfida dello scaffale strabordante perché volevo leggere un fantasy a novembre e sì come no Angela racconta ce n'è un'altra quindi una raccolta di racconti di scrittori di fantasy racchiusa tutto in questo volume niente a me il fantasy lo sapete piace pochissimo ho pochissimi libri fantasy a casa scelti proprio con le pinze e poi finché non ho letto quelli non procedo anche se ci sono tanti titoli che sono usciti adesso che mi ispirano ma il fantasy proprio non non è tra quei titoli che mi fanno impazzire tra quei generi che mi fanno impazzire quindi questo ho deciso di darlo via le ricette della signora Tokue lo do via perché Anna mi ha regalato l'edizione Naudi quindi che è molto più carina e poi ha un valore comunque in aggiunta affettivo quindi do via la mia edizione che avevo preso col giornale e tengo la sua questo solo per quello di Charles Dickens racconti polizieschi l'ho letto non mi ricordo assolutamente niente quindi facciamo che lo diamo via tanto l'ho letto basta di Dickens voglio leggere altro stanno là che mi aspettano quindi concentriamoci su altre cose si va bene fare anche un po' che ne so raccogliere tutto quello dell'autore si bello però oggettivamente facciamo un po' di spazio non ne posso cioè non ne posso più no perché continuo a comprare però bisogna di vedere un po' di ordine mentale la favoleosa la favoleosa in corsivo la breve favolosa vita di Oscar wow questo pure l'avevo preso al mercatino ricordo anche vagamente di averlo mostrato recentemente per me all'anno scorso quindi non è che andiamo proprio tanto là 3 euro ma mi è passata la fantasia di leggerlo non mi va più di affrontarlo e quindi lo diamo via avevo trovato a 2 euro questo titolo nuovo dell'aggiunti 2 euro e 20 di Marco Malvaldi la misura dell'uomo se devo leggere qualcosa di Marco Malvaldi preferisco andare verso il barlume è una serie che mi ha sempre ispirata e vorrei affrontarla più c'ho odore di chiuso di Malvaldi con con un giallo con l'artusi quindi preferisco poi rileggere quello questo si l'avevo preso perché si parlava di Da Vinci non mi dispiaceva come tema però oggettivamente sta ancora qui e non ho fantasia più di leggerlo e quindi lo mandiamo per altri per altri lettori lo mettiamo in circolo per altri lettori anche qui un altro libro potrebbe essere bello questo anzi sicuramente come tutti i libri che vi ho mostrato sono belli non rientrano più nelle mie corde il libraio di Kabul preso sulla scia dei libraio questa è una vita che sta con me è una vita e ancora non l'ho mai letto un pochino sono indecisa però questo genere di lettura non mi fa proprio impazzire diciamo che se l'affronto mi deve proprio ispirare tantissimo la trama perché altrimenti non sono quei generi che mi vado a cercare lo so è detto un po' brutale così però è la verità ogni lettore è fatto a modo suo ha i propri gusti ha i propri gusti anzi e di conseguenza uno tende un po' sì mi metto alla prova ma di fronte a tanta mole così di romanzi voglio fare un po' una scrematura sembra che mi sto giustificando nel dare via questi romanzi effettivamente così johnny even maschio bianco etero l'ho venduto e l'ho ricomprato perché in realtà cercavo a volte ritorno che poi ho trovato in un altro mercatino dell'usato e le insolite sospette quelle con le vecchiette in copertina ecco questi sono i due titoli di johnny even che voglio affrontare questo poi alla fine non mi interessa più tanto quindi lo vendo l'ho pagato meno di 3 euro al mercatino quindi diciamo che sono libri che ho sempre comprato e usati quindi non sono una grossa perdita però ecco il mio acquistare compulsivo che ogni tanto poi si diventano e mi rendo conto che ho fatto una grande cavolata un regalo di natale che però anche questo non rientra molto nelle mie corde io non l'ho letto però buonanotte a te di roberto e manuelli non l'ho neanche mai provata a leggere però così a pelle non mi ispirano siamo solo per pochi questi cosi tutti d'amore no non fanno per me e un po' sulla stessa scia di Federica Bosco non perdiamoci di vista anche questo è un romanzo che mi hanno regalato per Natale ma io in realtà non sento il bisogno di leggerlo e Federica Bosco nel dettaglio so che ha fatto la trilogia dell'Angelo ho scritto tanto Federica Bosco ma è un'autrice me ne hanno parlato bene un'autrice che a me non interessa affrontare mi dispiace tanto dirlo che poi magari ci arriverò adesso lo dico poi magari il mese prossimo comincio a leggere per sbaglio Caduta di un Angelo una cosa del genere e me innamoro profondamente ma in questo momento non ho voglia di leggerli mi dispiace pure darli via che sono stati dei regali di Natale e non averli neanche aperti però ho letto già le trame non rientrano molto nella mia tipologia di lettura ecco e poi ti dici qual è la tua tipologia di lettura non lo so però questi non li voglio leggere ok ultimi titoli chi lo so che direte no questa davvero pure questo libro questa è pazza ma che sta a fare quel capisce niente lo so lo so e ne convengo con voi che potrei dare questa impressione però questi sono quelli che so sicura di dar via poi passiamo a quei 4-5 che sono un po' indecisa allora questo l'ho via perché è un doppione l'altro mi è arrivato il regalo credo da Valelibri penso e quindi la copia che ho io la do via la parte più tenera di Ruth Reich una scrittrice una critica gastronomica una cuoca che mi piace un po' affrontare i suoi scritti ho già 2-3 titoli suoi che non vedo l'ora insomma di procedere nella lettura però questo avendocelo doppio lo do via ne so osservate poi la collezionista di storie perdute di Anne Hood non so neanche perché l'ho comprato 3,50 euro al mercatino però lo do via perché non mi interessa più leggerlo preferisco altri generi di titoli vuoi che siano un pochino più spensierati un pochino più romantici a volte ho bisogno anche di fare la casalinga disperata ma questo nel dettaglio non lo voglio più leggere poi questo l'ho letto un'estate con la strega dell'ovest l'ho letto quest'estate vi dovessi dire pensavo peggio in realtà dai non mi è dispiaciuto mi è piaciuto molto il finale quindi che ha ribaltato un po' un po' tutta la situazione non mi è dispiaciuto però lo do via è ora di darlo via poi tre libri che avevo preso le prime uscite col giornale però poi mi sono fermata era un po' il periodo che si parla di scusate scusate mi squillavo al telefono allora e ho dovuto rispondere dunque questi titoli sono sulla mitologia non rena ecco non mi veniva quindi Thor e il potere di Mjolnir che io avevo già iniziato a leggere ma l'avevo trovato estremamente noioso Odino e i nove mondi che un po' mi dispiace darli via oppure Merlino però Merlino me lo sono lasciato perché è un personaggio che mi piace Loki e la profezia di Ragnarok l'avevo preso un po' sulla scia dei film un po' che erano usciti Thor spinta Loki Thor però poi mi è passata la fantasia di leggerlo quindi ho deciso di darli via poi i Leoni di Sicilia io l'ho comprato il primo l'ho trovato a 3 euro al mercatino ma lo sapete che non mi va di leggere non ho recuperato neanche la serie televisiva perché proprio non mi va di affrontare una saga familiare ho ancora i Casalet da leggere che stanno lì dice Angela vuoi paragonare Casalet ai Leoni di Sicilia però per dire che fa parte della saga familiare però non mi va c'è un'altra dopo che però sono indecisa se tenere o no poi i dossier di Sherlock Holmes 5 casi top secret per il detective di Baker Street questi sono apocrifi questi racconti di Enrico Solito però come obiettivo voglio leggere quelli proprio classici di Conan Doyle quindi leggermi tutti sia i romanzi che tutta la montagna di racconti che ha scritto Conan Doyle inerenti a Sherlock Holmes e quindi questi passano in secondo piano e quindi ho deciso di dare via questo volume e concludiamo questi che sono sicura di dare via La notte dei desideri di Mikael Hand lui è l'autore della storia infinita di lui ho già letto la storia infinita ho letto Momo ho letto anche qualcos'altro una raccolta di racconti e ho letto sua ma man mano mi comincio fino in fondo sì il messaggio che lascia è bello tra l'altro a me la storia infinita la seconda parte non mi è piaciuta per niente ho apprezzato solo la prima che era uguale al film la seconda no ma lo vorrei riaffrontare chissà prima o poi riaffrontarlo per capire meglio insomma potersi che l'ho letto non standoci molto attenta e facendomi un po' influenzare dal fatto che la prima era uguale al film e la seconda no comunque questo è l'altro che voglio dare via e Grog di Magog una cosa del genere e non mi interessa più leggerlo e quindi ciao caro Mika Eland ora ci sono questi 4-5 titoli che sono indecisa sono indecisa se dare via erano già finiti nella pila del dare via però sono un po' indecisa allora il primo è mi pare che è questa no dopo di Charlotte Link ecco perché prima l'ho nominata Venti di Tempesta è una trilogia vecchissima come vedete dall'edizione quindi Venti di Tempesta profumi perduti tra l'altro un'edizione diversa perché giustamente quell'altra non le trovavo più e una difficile eredità questi l'avevo presi su Bookmuch e il terzo l'avevo comprato al mercatino allora questa è una saga familiare ambientata nel 1914 in Europa pronta alla guerra e una giovane donna sogna l'amore e la libertà di lei avevo letto già La Casa delle Sorelle libro che mi era piaciuto tantissimo tra l'altro non prendetele in edizione economica che è scritta piccola così e ho faticato tantissimo prendetele in edizione l'avevo ristampato col fonte grande comunque se lo volete leggere e mi era piaciuta tanto la sua scrittura e il suo il suo questa storia di questa Casa delle Sorelle di contro avevo letto di suo un altro un altro tipo mi pare l'ultima traccia io proprio il romanzo con cui l'ho conosciuta l'ultima traccia e mi ha fatto schifo quindi sono indecisa se vendere questa trilogia che con me dà una vita praticamente se venderla o dargli almeno una possibilità al primo questo sono ancora un po' indecisa ecco qui vi chiedo veramente una mano ditemi se venderli o no questi di magari dargli un'opportunità Emma e il fauno no Emma il fauno e il libro dimenticato l'ho comprato sulla scia di bookjumpers che l'avevo letto in formato ebook non mi aveva fatto impazzire perché erano yangato il teo non è che proprio fanno così però trovandolo un paio d'euro al mercatino avevo deciso di prenderlo è un omaggio a Jane Austen questo forse è più darlo via che tenerlo però magari magari qualche citazione dei libri mi piace sempre leggere titoli inerenti alle citazioni dei libri e poi il fauno mi da molto non so mi riporta un po' la mente Narnia c'era un altro film che ho visto col fauno qualche altra cosa comunque mi sblocca dei ricordi e quindi sono un po' indecisa se tenerlo o no qui non c'è neanche la copertina c'è il famoso ladro di copertine che un tempo girava al mercatino la donna che sparì con un libro una scrittrice in fuga una ricerca fino all'ultimo libro anche questo era una di quelle di quelle di quelle trame perché io credo di averla letta la trama o l'ho comprato così sulla scia a 3 ore e 50 nel 2020 che io non so se venderlo allora diciamo che la Garzanti non è proprio una casa editrice che il catalogo mi fa impazzire perché comunque sono viaggi viaggi sentimentali di donne quindi la loro elaborazione del sentimento che matura diciamo così un viaggio sentimentale in questo senso per cui non è che proprio va pappeciccia però sparì con un libro dai mi ispira tanto il titolo e quindi sono molto indecisa se tenerlo o no ho letto un Wolf Dorn di lui ho letto soltanto la psichiatra è un thriller che ho apprezzato moltissimo però di cui non ho sentito il bisogno di leggere altri thriller psicologici proprio della categoria mi sembrano un po' tutti uguali quindi io quando mi vado ad approcciare sono un po' prevenuta verso i thriller quelli che sono adesso definiti psicologici però al mercatino avevo trovato per 2 euro gli eredi io l'ho preso perché a 2 euro un Wolf Dorn in copertina rigida che fai? lo lasci? però ad esempio adesso che anche leggevo la trama è sempre questa cosa psichiatrica quello che è non è e poi quello che non è è ma un po' annoiato quindi sono indecisa ma propenso forse per darlo via e se poi però è un bel thriller psicologico io mi tolgo lo scrupolo di leggerlo vedi ecco perché su questi sono indecisa l'altro che tengo solo perché c'ha le pagine tutte rovinate un po' così un po' invecchiate però credo essere uno yangato il tuo scoperto una volta a casa è il libro del drago di Matthew Skelton anche qui non so che cosa fare l'avevo preso proprio perché c'aveva le pagine disegnate qui davanti me ne sarei pentita però a me mi sa stata accattivante leggere un libro così tutto rovinato così e quindi l'ho preso eh sì l'ho fatto l'ho preso tra l'altro sempre senza copertina quindi non so che copertina abbia nella verità nella libreria però questo anche sono indeciso se tenerlo o no e l'ultimo tra i libri che volevo dare via c'era una pentalogia che io spero sia tutta insomma non mi sono andata a formare il dettaglio ma mi ricordo che l'avevo preso di tutti e cinque è la trilogia sugli uomini primitivi nel dettaglio si chiama Ayla figlia della terra di Jeanne Howell io ho questo come primo romanzo che avevo trovato al mercatino e mi ispirava a leggere una saga familiare ambientata negli uomini primitivi insomma nella preistoria ecco non mi veniva la parola quindi poi mi era andata tra l'altro ho scritto piccolissimo la farò a leggerla non lo so però ci penseremo quando la affronterò quindi mi era andata ad informare non so se uno di voi che insomma mi segue mi aveva segnalato che c'era una che le vendeva su facebook e quindi l'avevo comprata in stock tutta la tutta quanta tra l'altro visto che mi sa che è fuori produzione quindi tutto sommato faccio bene a tenerla però che succede quando sono andata insomma a selezionarla per metterla nella pila da vendere mi si è aperto l'ultimo l'ultimo volume della pentalogia tra l'altro che si stacca la prima pagina ma questi sono dettagli e dentro ci ho trovato una dedica del 22 giugno del 2005 in un ospedale che insomma per privacy non farò non dirò dove alle 3 di mattina sto pensando a te e sono felice di averti incontrata le parole non rendono la felicità che vedo nei tuoi occhi che ridono ti amo a modo mio tuo e la firma vabbè se capisci niente perché sono scritto male però ognuno ha la sua scrittura però mi ha colpito talmente tanto questa dedica che ho deciso di tenere tutta la pentalogia ci ho poco per convincermi però io per questo fatto per questa cosa qui ho deciso di tenere tutta la pentalogia quando la leggo non lo so però io intanto ho tutta la pentalogia ok questo video finisce qui spero di riuscire a appiccicare le due parti di video così da poter lasciare un contenuto prima o poi sul canale raccontatemi un po' voi se fate spesso decluttering se avete dato via qualche titolo io ad esempio preferisco prima leggerli e poi darli via abbandonarli ma darli via dargli comunque un'opportunità che dal momento che li ho comprati è perché sono interessata ma in questo caso avevo bisogno oggettivamente ho approfittato anche per dare pseudo sistemata ai volumi però avevo bisogno anche di liberarmi un po' di titoli che si avevo comprato però non volevo più leggere e un po' mi mancava il coraggio dico perché vedi compro io a sentimento e poi me ne pento non faccio mai scelte si un po' ponderate perché lì sulla scia del momento li compro al mercatino li trovo a 2 euro 3 euro però poi mettendoci tanto a leggere mi passa un po' la fantasia di affrontarli e quindi questi salperanno qualcuno al book crossing qualcuno su vinted qualcuno all'aeroporto al mercatino vediamo un po' insomma adesso come distribuirli al meglio e niente noi siamo alla fine del video grazie per essere stati qua per averlo visto tutto perché come sempre un video immenso come i miei abbiamo passato quasi un'oretta in compagnia e mi fa tanto piacere scrivetemi nei commenti che anche solo per un saluto anche solo che belli orecchini che bel rossetto quest'area sconvolta ti sta bene a me va bene tutto anche se è fuori tema con i libri non mi importa mi fa piacere sentirvi noi ci vediamo come sempre in un prossimo video che spero vivamente di registrare il wrap up nel mese di gennaio non ho comprato libri non so se mi spiego e spero di fare presto il wrap up e di tornare un pochino io lo dico sempre ma quest'anno le feste sono tutte attaccate quindi un po' sarà un po' complicato però di tornare spesso a farmi vedere qui su youtube perché mi manca tanto parlare con voi io vi ringrazio come sempre un bacione alla prossima